Gerardo Sulmona, presidente del Mirabello CSI, Mirabello che era il paese di Nicola Fierro e l'intento è proprio quello di ricordare un amico che non c'è più. Il ricordo di Nicola in tutti voi, nel comune di Mirabello e nell'ambiente giornalistico è vivo. Meno male, infatti possiamo solo ringraziare l'ordine giornalisti che ci ha invitato e ha avuto il pensiero di questa giornata insieme per ricordare Nicola e quindi siamo qui per questo. Pensando a Nicola possiamo pensare un po' pure a noi, oggi deve essere pure una giornata per riflettere su quello che è un po' il senso del percorso e quello che ognuno di noi può fare nella sua parte di vita. Nicola sicuramente per quello che faceva per la professione ha dato tanta passione e quindi lo ricordiamo con piacere. Certamente e poi dobbiamo anche purtroppo ricordare che il suo calvario legato alla malattia purtroppo è durato moltissimo tempo rispetto al breve periodo di vita che Nicola è vissuto. Sì sì e questo deve essere appunto uno spunto per noi tutti per riflettere effettivamente su quello che è il nostro percorso su questa terra considerando il periodo storico che stiamo vivendo quindi se ci sono persone che si stanno ammazzando per un pezzo di terra dovremmo risvegliarci ogni tanto e pensare che questa terra c'era prima di noi e ci sarà dopo di noi. Quindi è questa la riflessione che possiamo fare, provare a impegnarci per fare qualcosa di buono, lasciare qualcosa di buono per chi c'è e soprattutto per chi verrà perché questa è l'unica cosa che possiamo fare. Bellissimo il tuo pensiero al riguardo. Per quanto riguarda una riflessione anche su Mirabello che è un paese praticamente attaccato a campo basso c'è questa squadra CSI e ovviamente provate anche tu sei il presidente e provate a dare continuità nel tempo. Sì, questo è il decimo anno, la SD, grandi calciatori Mirabelli, ci siamo chiamati così perché siamo un po' tutti attempati e andiamo un po' in là con l'età. Il CSI è una realtà regionale che da anni ci consente di continuare a giocare, di aggregare, di non escludere perché fondamentalmente il concetto è quello, è proprio di integrare, certo fa piacere vincere perché quello sia chiaro, fa sempre piacere vincere però l'obiettivo deve essere quello di impegnarsi, di stare insieme, di fare attività fisica a qualunque età quindi riuscire a muoversi, a stare insieme, a occupare quei due, tre giorni, due, tre ore per allenarsi, per fare la partita noi poi abbiamo sempre l'abitudine più o meno di incontrarci per il terzo tempo con gli avversari quindi siamo sempre, è uno spirito che a noi piace e speriamo di portarlo avanti.